Dopo l'omicidio a Ventimiglia, piazza Cesare Battisti, davanti alla stazione, si è trasformata in una scena del crimine. Un ennesimo episodio di violenza che ha costato la vita a un giovane nigeriano. Una tragedia annunciata secondo molti cittadini che poteva essere evitata. Residenti e commercianti sono esasperati dalla continua e numerosa presenza di stranieri in vari punti della città di confine. Grazie per la visione!